Musica Ancora droga e telefoni cellulari negli istituti penitenziari abruzzesi. Dopo i recenti blitz in varie carceri italiane, la squadra mobile della questura di Teramo ha eseguito otto misure cautelari in carcere e perquisizioni in diverse località, comprese le case circondariali di Teramo, Viterbo, Pescara e Romarebibbia. I reati contestati sono spaccio di sostanze stupefacenti e accesso in debito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. L'ultima operazione arriva al termine delle indagini coordinate dalla procura di Teramo. Dall'attività investigativa era emerso infatti un sistema di spaccio al dettaglio di cocaina e hashish all'interno del carcere teramano, che vedeva per protagonista una famiglia straniera, un componente della quale era detenuto proprio nella casa circondariale. Alcuni membri della famiglia riuscivano a far entrare in carcere la droga, mentre il detenuto la smerciava all'interno dell'istituto penitenziario. Se la sostanza stupefacente entrava attraverso i detenuti che rientravano dopo i permessi, i pagamenti avvenivano invece con ricariche e poste pay da parte dei familiari dei detenuti. Il pusher comunicava con l'esterno grazie ad uno smartphone e lo stesso dispositivo veniva utilizzato da altri compagni. Ma non si tratta dell'unico caso scoperto. Proprio una settimana fa, dopo un'attenta attività di osservazione da parte della Polizia Penitenziaria, era scattato il blitz all'interno della cella di un italiano detenuto nell'ala di media sicurezza e già noto per possesso di telefoni cellulari. Sono stati rinvenuti una sim card, un cavetto USB e la carcassa di un microcellulare, spiega Giuseppe Pallini, segretario provinciale del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria. Nelle altre operazioni di controllo, all'interno della saletta ricreativa comune, da dove poco prima era uscito, è stato scoperto un cellulare abilmente nascosto all'interno di un intercapedine di un muro. Il detenuto è stato denunciato all'autorità giudiziaria.